20 chilometri 20 chilometri e anche questa volta rossi hanno utilizzato le bombe a grappolo ci sono immagini inequivocabili il sindaco ha parlato del fatto che negli ultimi due giorni è stato colpito il reparto maternità di un ospedale una scuola, un supermarket ma probabilmente la strage più grande è avvenuta a questa fermata dell'autobus sono bombardamenti che in gran par che partono dall'avvicinarci dove negli ultimi giorni abbiamo vizio quindi un aumento del flusso di truppe il rinforzo a questa fronte assolutamente è stato di nuovo intanto di avanzare questo Nicolai ieri abbiamo sentito non abbiamo mai sentito così tanti razzi così tanti caloni in due giorni verso il fronte di Nicolai noi questa mattina siamo partiti dalla destra dove ci hanno segnato le sirene antiaeree che poi abbiamo sentito anche la dottraere in funzione non ci sono state altre esplosioni ma ci segnalano invece un missile lanciato dal mare verso una base militare sulla costa a nord di Udessa vicino al porto di Yushin questa cosa è molto importante perché nella giornata di sabato i russi avevano lanciato altri tre missili contro questo che è un po' il porto petrochimico della città dove sono stoccate grosse quantità di ammoniaca e quello che abbiamo riprodizzato che stesse cercando un effetto a catena che però non c'è stato l'effetto invece che c'è stato domenica mattina quando c'è stato lo suo bombardamento che è ancora in via di fatto che ci stiamo solo ferito ma l'esposione è stata enorme è una zona a circa 3 km da centro ora abbiamo sentito una nera distinta all'inizio vado adesso dove abbiamo spostato un po' da l'inizio del verbo e quando sono arrivati questi depositi hanno avvenuto per la giornata un po' da l'inizio che ci sono riusciti in via un po' di 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 dobbiamo far discutere la vicenda